La Taccacuglia è un ritrovo di amici e in realtà il giro di Cuglia che faremo in quattro tappe, questa è la prima, si chiama Gargano, il nostro patrimonio, poi ci sarà la seconda tappa che è le corse di Federico, che chiaramente si tolgerà nella zona di Tardi e Matera perché si tolgerà l'anno prossimo, la terza tappa si chiama Celebrità perché raffiderà le province di Taranto e Brindisi e l'ultima è il Salento, il Salento che si chiamerà Sadilento perché noi con le nostre macchine andiamo molto lentamente, ci godiamo il paesaggio, ci godiamo un po' tutto, ci godiamo gli amici, amici che arrivano anche da molto lontano perché questo raduno ha tanti amici, arrivano da tutta Italia e soprattutto c'è Ian, questo proprietario di questa bellissima macchina che si è fatto 2540 chilometri per venire da noi e se ne farà altre tanti per poterla a casa. Quante auto appunto sono, che modelli sono, per esempio, diciamo formaramente le più note insomma? Certo, i modelli sono orientativamente degli anni 70 a scendere, quindi precedenti agli anni 70, ci sono vari tipi di macchine, però a differenza di molte altre situazioni stiamo tentando di scegliere non tanto le macchine perché sono d'epoca, ma soprattutto le persone che devono essere simpatiche perché stiamo facendo una vacanza. ma la possesso.